Quanto dobbiamo spendere per la nostra bistecca? Solitamente siamo abituati ad andare al supermercato, dal nostro macellario di fiducia, a spendere 18, 20, 22 euro al chilo per una bistecca. Ovviamente vedere i prezzi che sono tra i 30 e i 40, anche 45, 50 euro può un po' spaventare. Però questo è dovuto al fatto che la carne ha una qualità realmente molto molto superiore, è più buona, gustosa, saporita e ne vale assolutamente la pena. Grazie a tutti.